è lì che controlla, buongiorno, ti conviene andartene perché dopo fra un po' questo qua e niente non ce l'ha, ce l'ha in testa adesso a modi non si nomina Bruno, non si nomina Bruno no no no, farfallina vola via, vai brava via via dal casco via, brava, adesso salgo sul mio ho preso molto la mano sul divano